Stiamo nei pressi del porto, vedete? Questi sono i marciapiedi di Formia Ebbene, si permette Lazio Tg di dare i voti al nostro sindaco Ma a fuoco, adesso si dice a Gai Guardate qua, questo è il centro di Formia Abbiamo proprio un grande sindaco a Gai E questi ci odiano Guardate qua, questo è il centro di Formia qui nei pressi del porto, vedete? Sì, sono i marciapiedi di Formia Noi, non ci sono i pagli Iniziamo con l'ascolto di Sucsiani Pagli Sucsiani Pagli Sucsiani Pagli